Come ha fatto quest'uomo a passare quasi inosservato per più di 40 anni? Ciò che ha fatto è davvero inquietante e disgustoso, ma nonostante ciò, ha vissuto la maggior parte della sua vita da uomo libero, come se non avesse fatto nulla. Eppure si sarebbe meritato di marcire in prigione, per sempre. Ciao belli d'ezio, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. E la storia di cui voglio parlarvi oggi, come già avrete capito, è quella del Golden State Killer, Conosciuto anche come East Area Rapist, come Night Stalker, oppure come Visalia Ransacker. Insomma è uno dei killer a cui hanno dato più soprannomi, infatti il suo caso è un vero casino e come vedrete ci saranno fin troppe vittime. Nonostante tutto però sono felice di dirvi che si tratta di un caso risolto, per cui possiamo dire che alla fine un po' di giustizia c'è stata, ma non prima di tanta tanta sofferenza. Siamo negli Stati Uniti nel 1970, internet non esiste. I cellulari non esistono e la polizia scientifica non è per niente avanzata. Questo è il contesto in cui ci troviamo. Ma la persona di cui voglio parlarvi non nasce neanche negli anni 70, nasce molto prima. Si tratta di Joseph James DeAngelo Jr., figlio di Joseph James DeAngelo Sr., e Kathleen Louise DeGroat, detta Kay. Il piccolo Joseph nasce l'8 novembre 1945 nella città di Bath, nello stato di New York. Provate quindi ad immaginare il luogo e il periodo in cui nasce. Non ci sono frigoriferi, le macchine e i treni sono lentissimi, la principale fonte di media è la radio, i cinema sono in bianco e nero, cioè è un'epoca che ormai possiamo vedere solo nei documentari. Ed è importante sottolineare subito questa cosa perché al tempo la gente era molto diversa da quella di oggi. C'era molta meno tolleranza su alcune cose e tanta superficialità su molte altre. E in più il contesto familiare in cui nasce Joseph non è per niente felice. Lui è il maggiore di quattro fratelli, in totale ha due sorelle e un fratellino più piccolo. Loro padre, Joseph Sr., è il classico padre di famiglia di quei tempi. All'epoca, infatti, è un sargente dell'esercito americano e come avrete già immaginato, è il tipico padre tossico, maschilista, aggressivo e violento. Il fatto che sia un soldato, poi, non lo rende minimamente comprensivo nei confronti della moglie e dei figli. Quindi, anzi, di base è un uomo odioso, direi. E anche terribile. È sicuramente figlio del suo tempo, anche perché, se non sbaglio, lui tipo è nato negli anni venti. Ma, a prescindere dal suo di contesto, è un uomo brutale, che non risparmia sofferenza a nessuno. A causa del suo lavoro viaggia molto, ma si porta dietro tutta la famiglia. Per questo, per un periodo, sono costretti tutti a vivere in Germania. Ma per Joseph Jr., il protagonista vero di questa storia, quello non sarà un periodo piacevole. Cioè, già di base vive in una famiglia bruttissima, ok? Ma, mentre in Germania, succede qualcosa di davvero terribile. Il ragazzino, infatti, assiste al suo primo vero trauma. Purtroppo non c'è modo più soft per descrivervelo, quindi ve lo dico e basta. In sostanza, vede che una delle sue sorelle viene stupata da due aviatori all'interno di un magazzino. E tanto per la cronaca, questa sua sorella, all'epoca, aveva solo sette anni. Questo ci fa sicuramente capire lo schifo che c'era in giro in quei tempi. Non che ora sia meglio, ma almeno c'è più consapevolezza e questi crimini in genere vengono beccati subito, vengono fermati in tempo. Prima direi che erano addirittura tollerati in alcuni casi. Comunque, purtroppo non sappiamo esattamente le dinamiche di ciò che è successo e non sappiamo nemmeno come ha reagito Joseph in quel momento. Forse ha provato ad intervenire, oppure è stato fermo, nascosto a guardare la scena, immobilizzato dalla paura. Di sicuro, da quel momento, la sua vita cambia. Anche perché quella violenza, la violenza intima, non era l'unica a cui aveva assistito. Il ragazzino, infatti, era stato abituato, comunque da quel momento in poi, ma anche in realtà un po' da prima, ad assistere alle violenze del padre sia sull'altra sorella che sulla madre. E si ipotizza essere stato vittima anche lui di questi abusi. In generale, Joseph Senior, il padre, è un uomo talmente tanto brutale che non si risparmia nemmeno di fronte ai suoi figli. Questo purtroppo porta Joseph Junior a sviluppare un senso di inferiorità nei confronti del padre e capisce che se vuole essere al suo livello deve esercitare potere e violenza sulle donne. Da queste esperienze capisce che lui deve fare come suo padre, che deve dimostrarsi all'altezza per poter usare le donne per il proprio piacere. Ovviamente tutti questi ragionamenti li sviluppa col tempo, ma già da piccolo sente che questa è la strada giusta da intraprendere. Di sicuro sente che deve essere come suo padre, quindi molto mascolino, magari anche un soldato affermato. Insomma, come avrebbero detto all'epoca, un vero uomo. E così, dopo il periodo in Germania, tornano tutti negli Stati Uniti. Joseph Junior frequenta la scuola come tutti gli altri bambini e cresce in un modo, possiamo dire, normale. Comunque, nell'adolescenza inizia a prendere buoni voti a scuola, comincia anche a giocare nella squadra di baseball e diventa decisamente popolare. Il problema è che sviluppa delle passioni parecchio discutibili. Immaginate, siamo ora negli anni 60 e molti giovani di quel tempo erano soliti fare le cosiddette bravate, che sarebbero le classiche cazzate che facciamo tutti da giovani. Ma all'epoca venivano fatte cose peggiori rispetto a quelle che si fanno adesso e venivano anche giustificate. Pensate, venivano giustificati anche piccoli furti oppure l'uccisione di animali per divertimento. Cioè, era normale, tra virgolette, che gli adolescenti lo facessero per divertirsi. E Joseph, chiaramente, non è stato da meno. Si racconta che ogni tanto, di notte, andava in giro per le case di sconosciuti a rubare oggetti a caso. Ma non si limitava a questo. Infatti, a quanto pare, faceva anche esplodere letteralmente degli animali. Non ho nemmeno idea di come facesse, non mi sono informato abbastanza. Apposta, l'ho fatto apposta perché non voglio proprio informarmi abbastanza su questa cosa. Comunque si racconta dalle varie fonti che ho utilizzato per fare questo video che faceva proprio saltare in aria questi animali. Comunque la cosa inspiegabile è che i suoi genitori non si sono accorti di nulla di tutto ciò. Vabbè. Red flag gigantissime a parte, Joseph si diploma e decide di seguire le orme di suo padre. Anche lui quindi vuole fare il soldato e ci riesce. Anche piuttosto bene. Per essere specifici, si arruola nella Marina degli Stati Uniti nel settembre del 64. E presta servizio per 22 mesi durante la guerra del Vietnam. Ora, non so se lo sapete, ma quello del Vietnam è stato un conflitto molto controverso e destabilizzante. Perché, nel vero senso della parola, molti soldati che tornavano negli States dopo quella guerra diventavano depressi o comunque sviluppavano patologie molto gravi a livello fisico e mentale. E si ipotizza che Joseph, già molto particolare di suo, abbia subito delle grosse ripercussioni dopo il suo servizio in Vietnam. Tuttavia, all'apparenza, non sembra sia successo niente di grave alle persone, oddio, quelle intorno a lui, che stavano con lui e lo vedevano e ci parlavano. Sembrava una persona normale. Per questo, dopo il congedo, Joseph decide di diventare un poliziotto, comincia a studiare per entrare a far parte delle forze dell'ordine, si impegna tantissimo e arriva addirittura a prendersi ben due lauree in pochissimo tempo. Cioè, la sua passione e determinazione sono fortissime. Ed è una cosa che tutti quelli vicino a lui notano subito. Quindi, dopo tutti questi studi, Joseph Junior fa un tirocinio di 32 settimane e lo supera senza problemi. Agli occhi di tutti diventa proprio un giovane uomo intelligente, sveglio, capace, determinato, ma in realtà era profondamente disturbato e noi lo sappiamo. Comunque, in quel periodo appunto, lui è pronto a servire il suo paese e non vede l'ora in realtà di fare il poliziotto. Però, dietro questa facciata, come sapete, in realtà si nasconde un mostro. Un mostro che come unico obiettivo ha quello di soddisfare i suoi desideri sessuali perversi e, a dir poco, brutali. Ormai, Joseph diventa praticamente l'orgoglio di suo padre, sotto moltissimi aspetti, in effetti, sono proprio uguali. Anzi, in realtà, il figlio arriva addirittura a superare il padre, quasi in tutto. Sia in termini lavorativi, perché ha fatto il soldato e ora il poliziotto, e sia in termini disturbi. Dato che siamo nel 1970, è consuetudine per un uomo come lui trovarsi una moglie, per cui si fidanza con la sua ragazza del college, una certa Bonnie. Peccato, però, che le cose tra di loro non vanno affatto bene. Bonnie si rende conto, solo dopo un po', che lui, in realtà, era un uomo brutale e violento. Sentite la proposta di matrimonio che le ha fatto. Ha pensato, dato che sentiva la pressione di doversi sposare, ha pensato di chiederglielo in maniera veramente insolita. Ovvero, puntandole una pistola addosso, quindi l'ha obbligata. Ma per fortuna, anche grazie a suo padre, Bonnie, pone fine a questa relazione tossica, pericolosissima, e si salva la vita, di fatto. Però lei, devo dirvi, purtroppo, sarà solo una delle poche fortunate. Joseph, tuttavia, non si arrende, figuratevi, ed effettivamente riesce a sposarsi nel 1973 con una certa Sharon Marie Haddoll. Questo matrimonio sembra stabile e dura davvero tanti anni. I due poi mettono al mondo tre figlie. Due di loro nascono a Sacramento e una a Los Angeles. La famiglia quindi si stabilisce dopo un po' a Citrus Heights, una cittadina nella contea di Sacramento, in California. Ma col passare degli anni, Joseph, per qualche motivo, non riesce a mantenere il suo lavoro da poliziotto e comincia a lavorare in una sorta di officina. In realtà, non sappiamo che tipo di lavoro facesse in quel periodo, ma quello che sappiamo è tutto il resto. Ovvero tutti i crimini di cui si è macchiato nel corso di quegli anni. Durante la nascita e la crescita delle figlie, durante il trasferimento e il cambio di lavori, Joseph porta avanti sostanzialmente una seconda vita. Praticamente dal 1973 al 1986 e anche oltre, commette tutta una serie di crimini a dir poco rivoltanti. Guardate, questa è solo la lista degli studi accertati. Quindi direi che possiamo affermare tranquillamente che ha ampiamente superato suo padre in questi termini. Ma purtroppo non si ferma solo a questo. Dal 1973, infatti, la polizia comincia a registrare tutta una serie di crimini, i primi dei quali si concentrano tutti nella contea di San Joaquin. Poco dopo si registrano crimini simili nella città di Visalia. Il misterioso criminale, che solo ora noi sappiamo essere Joseph, viene soprannominato il Visalia Ransacker, che sarebbe il primo dei tanti soprannomi che gli verranno affidati. In questa fase di Visalia Ransacker, i suoi crimini sono piuttosto blandi, perché come faceva da ragazzino, semplicemente si limita ad entrare nelle case degli sconosciuti durante la notte, frugare tra le loro cose, ruba oggetti di poco valore. In realtà dà malapena fastidio, non fa quasi niente di che. Cioè, non lo voglio difendere. Avere un ladro in casa chiaramente non è una cosa da poco, assolutamente. Ma se paragoniamo le cose che farà in futuro con queste di ora, fidatevi. Diciamo che non è poi così tanto preoccupante al momento, ok? Per farvi capire cosa intendo vi spiego velocemente cosa fa in questo periodo. Di notte, quando entra in queste case, si mette ad aprire cassetti, gettare via vestiti, rubare pochi spiccioli o oggetti particolari come carte fedeltà di piccoli negozi, francobolli, o anche singoli gioielli di poco valore. Cioè, non avete idea di quanti oggetti di valore invece non tocca neanche e lascia proprio lì, non gliene frega niente. È il ladro più strano di sempre. Infatti in questo periodo non sembra che stia facendo sul serio, sembra piuttosto che si stia esercitando, che stia facendo pratica con queste tecniche che aveva già sperimentato da adolescente. E effettivamente si dimostra piuttosto abile. Indossa sempre i guanti, crea delle vie di fuga perfette, sceglie le strade migliori per scappare tranquillamente con la macchina e non farsi mai beccare. Cosa di questo tipo? Cioè, era proprio bravo. Passano così 20 mesi colmi di questi furti sparsi e casuali e in tutto, in questo breve lasso di tempo comunque, ne compie 120, 120 furti di questo tipo. Ed è piuttosto inquietante se consideriamo che sono stati forse tutti tentativi di far pratica per essere sempre più bravo, vista di cosa poi. In tutto ciò comunque la sua famiglia non sospetta nulla. In realtà nessuno ha la minima idea di ciò che sta facendo Joseph. Di sicuro era diventato veramente bravo a dividere questi due aspetti della sua vita. Nascondeva effettivamente la sua doppia vita a tutti. Comunque dopo tutti questi furti, dopo essere sfuggito sempre e con successo, l'11 settembre del 1975, Joseph fa un salto di qualità, possiamo dire. Anzi, una caduta verso il basso, dipende dai punti di vista. Quel giorno, come sul solito, esce alle 2 di notte e irrompe in una casa. Lì trova una ragazzina di soli 16 anni, di nome Beth, che sta dormendo nel suo letto tranquilla. E però non si aspettava di trovarla lì. E così su due piedi, in maniera del tutto casuale e all'improvviso, decide di rapirla. La sveglia, le punta una torcia in faccia e poi la minaccia di andare con lui. Fino ad allora Joseph non aveva mai fatto una cosa del genere. Aveva sempre organizzato tutto quanto nel minimo dettaglio, per ogni volta che era entrato in qualche casa. Ma quella decisione improvvisa lo prende alla sprovvista, perché non sa che nella stanza accanto c'è il padre di questa Beth, che non solo si sveglia sentendo rumori strani, ma decide anche di andare a controllare. Joseph, intanto, è ormai fuori di casa con la giovane Beth. E il padre, per fortuna, li vede. Vede che sua figlia è lì fuori, nel posto auto, insieme ad un uomo armato che indossa un passamontagna. L'uomo armato, ovviamente, è Joseph. Ah, Joseph, che quando capisce che il padre della ragazza l'ha beccato, sostanzialmente, cosa decide di fare? Così, abbrucia pelo, prende la pistola, gli spara due colpi e gli toglie la vita, al padre di Beth. Questa situazione impressiona non solo la povera Beth, che ora è diventata orfana, poverina, ma anche lo stesso Joseph si impressiona così. Ed è talmente preso alla sprovvista che dà un calcio alla ragazza e fugge via in sella una bici. Ad un certo punto, però, dopo aver pedalato un po', lascia cadere la bici e si allontana correndo. Intanto i poliziotti vengono avvertiti e arrivano sulla scena del crimine. Il giorno dopo formano una task force per fermare questo criminale che da più di un anno tormenta la città e offrono addirittura una ricompensa di 4.000 dollari per la cattura, che al tempo erano tanti, ragazzi. Negli anni 70 4.000 dollari, non so di preciso quanti sono di adesso, però una bella ricompensa, perché erano tutti stufi di questa cosa. Fanno anche una sorta di identikit, sperando di trovare il colpevole il prima possibile. Ma questo non accade. Il 12 dicembre del 1975, infatti, alle ore 20 e 30, Joseph colpisce ancora. Entra mascherato in un'altra casa. Ma lì vicino, quella sera, c'era un agente di polizia che, quando vede Joseph uscire dalla proprietà, prova in tutti i modi a catturarlo. Gli spara anche un colpo di avvertimento per terra. L'uomo allora, come risposta, si toglie la maschera, fa capire che si sta arrendendo, ma poi all'improvviso tira fuori di nuovo la sua pistola e spara all'agente di polizia. Quindi questa è la sua seconda vittima. Su quella scena lascia delle impronte di scarpe da tennis e si scopre anche il suo bottino del furto in quella casa. Anche questa volta è composto da oggetti di poco valore. Quindi, come potete immaginare, tutta questa situazione fa parecchio scompiglio. E diciamo che si arriva ad una situazione in cui la sua fama lo precede. E probabilmente anche per questo decide di spostarsi. Decide di trovare un nuovo terreno fertile in cui agire. Per cui si trasferisce nella contea di Sacramento, perché trova un nuovo lavoro in un ramo della polizia. Un altro ramo della polizia. Quindi a questo punto dei fatti, non so dirvi con certezza se lui stesse realmente continuando a lavorare per la polizia o meno. Non lo so. Di sicuro, quello che sappiamo, è che conosceva benissimo le loro tattiche. Perché aveva lavorato nella polizia e in questo momento comunque ha a che fare, ha a che fare con la polizia. E forse anche per questo che è così inquietante ed è così bravo a scappare e a riuscire in tutti i suoi furti e non venire mai beccato. Conosce fin troppo bene come agisce la legge. E come potete immaginare, continua con i suoi crimini anche da queste parti, nel nuovo posto in cui si è trasferito. Ora siamo nel 1976 e Joseph continua a stupare e rapinare in giro. Ora gli viene dato il soprannome di East Area Rapist. E unisce i suoi più grandi interessi in un'unica grande operazione. Ovvero, va di casa in casa a rubare oggetti di poco valore, mangia, beve le cose che trova lì e stupra molte delle donne che vivono in queste case. Il suo modus operandi è veramente particolare perché in pratica sceglie spesso delle donne che vivono da sole come sue vittime. Donne che hanno una casa con un piano solo e che vivono o vicino a delle scuole o vicino a dei ruscelli o in generale vicino a degli spazi aperti, più o meno spazi naturali. Banalmente per poter fuggire dopo senza essere visto da nessuno. Un altro aspetto di questo suo modus operandi che trovo sinceramente raccapricciante è la sua maniacalità. Il suo totale e preciso controllo della situazione. Vi spiego. Allora, Joseph chiama spesso le sue vittime prima di fare qualcosa. Si finge qualcun altro per capire i loro stili di vita, per capire un po' quando escono, cosa fanno, come vivono. Le stalker ha al punto di scoprire quasi tutto delle loro vite. Poi diciamo che prepara tutto anche per il furto barra stupo. Cosa fa? Sposta gli oggetti nella casa in cui entra? Gli sposta in modo strategico, in modo tale appunto che non ci siano vie d'uscite per le vittime. Comunque lei intralcia. E crea anche vari modi per spaventarle. Come se volesse controllare le loro vite in tutto e per tutto e anche il loro terrore. Cioè a lui piaceva proprio spaventarle, farle paura e non farle avere delle vie d'uscita. Quindi i giornali del tempo chiaramente riportano tutte queste informazioni. E lui, quando le legge, ne rimane estremamente colpito. È molto felice. Addirittura prende queste informazioni e questi articoli di giornale come delle sfide. Questa attenzione gli dà gioia. Gli dà una sensazione di pericolo mista a piacere. E quindi decide di continuare. Anzi, di fare sempre peggio. Le sue prime vittime sono tutte donne single. Ora però, dato che ha un po' i riflettori puntati addosso, vuole provare anche a fare del male a delle donne fidanzate e o sposate. Quindi vuole perfezionare le sue tattiche anche nelle case dove al loro interno c'è una vera e propria famiglia. Quindi non si limita più a legare le vittime, a terrorizzarle per giorni psicologicamente. Ma preferisce addirittura che le vittime siano un uomo e una donna. E se può, o se in quel momento ha voglia, comincia anche ad uccirle. Quindi ha fatto proprio step up. A un certo punto ha detto, non mi basta più fare tutto sto schifo, voglio fare peggio. Voglio rovinare famiglie intere. Praticamente che cosa fa in queste situazioni, Joseph? Allora, prima di tutto lega uno dei due della coppia, che sia il marito o la moglie. Lo lega, o la lega. E lo, barra la, costringe a legare il partner a sua volta. Dopodiché, mette entrambe le vittime a pancia in giù e gli poggia dei piatti sulla schiena. Come una sorta di sistema d'allarme, perché dice quasi sempre questa frase alle vittime. Se sento che li fate cadere, vi ucciderò. Quindi capite che assume veramente un atteggiamento sadico da questo momento in poi. Nonostante tutto, il suo obiettivo è sempre quello di gironzolare a caso per le stanze, e fare sostanzialmente quello che vuole. Fare casino in tutta la casa. Ovviamente però approfitta sempre anche delle donne, infatti le violenta senza pietà, nonostante la situazione di estrema paura e terrore che aveva creato lui stesso in casa. Ma la cosa veramente ancora più terribile di tutto il suo nuovo modus operandi, è che Joseph lasciava le sue vittime legate con quegli oggetti sopra, tipo i piatti, per talmente tanto tempo che le vittime non si rendevano neanche più conto se lui fosse ancora a casa o meno. Infatti queste povere persone rimanevano anche ore legate, lì col terrore di non far cadere i piatti, o comunque degli oggetti che gli metteva sulla schiena, altrimenti li avrebbe uccisi. Immaginate l'orrore che questa gente, poverina, ha provato. È veramente terribile. E un'altra cosa terribile è che non viene mai beccato. Non solo è fin troppo bravo a scappare, ma sembra anche molto fortunato, perché effettivamente qualcuno lo ha visto compiere questi crimini, e qualcuno ha anche provato a spararli, ma senza successo. Cioè nessuno riesce a prenderlo, è assurdo. Tuttavia la comunità non rimane in silenzio. Viene organizzata un'assemblea cittadina proprio per parlare del problema, e uno dei presenti inveisce tanto contro questo presunto East Area Rapist. Joseph chiaramente è lì presente, e prende nota di questo signore, perché vuole farlo diventare la sua prossima vittima, più che altro sua moglie. E questo purtroppo succederà, riuscirà nel suo intento. Quello che succederà diventerà il nuovo modo per Joseph di divertirsi. Che cavolo succede stavolta, mio Dio. È sempre peggio ragazzi, vi avviso, sempre peggio. Praticamente il 18 marzo 1977, la polizia di Sacramento riceve diverse telefonate minatorie. È qualcuno che dice di essere l'East Area Rapist. L'uomo all'altro capo del telefono ride, li prende in giro, vuole attenzioni, e dice che ha già perseguitato la sua nuova vittima. Noi sappiamo adesso che è Joseph. Ma per qualche assurdo motivo che veramente non mi so spiegare, i poliziotti non hanno registrato queste chiamate. Per cui non possiamo dire se effettivamente con delle prove reali fosse Joseph. È praticamente sicuro perché solo lui faceva queste cose in quel periodo lì e si è saputo poi molto tempo dopo. Però comunque non c'è la prova schiacciante. Fatto sta che ricevono sta telefonata. In più, quello stesso giorno, una donna era stata veramente aggredita. Cioè, c'è stata davvero addirittura una nuova vittima. Per cui, chiaramente la polizia pensa che sia lui, pensa che sia l'East Area Rapist. E che stia soltanto cercando di attirare l'attenzione per, non lo so, farsi due risate. Non è facile capirlo. Ha una mente così tanto deviata che non possiamo spiegare benissimo tutto quello che fa e che pensa, anzi. Ad ogni modo, dopo altri crimini, rimane fermo per tre mesi. Non è chiaro il motivo di questa sua pausa. Ci sono tante ipotesi, una più valida dell'altra. Comunque non staremo qui a dirle. La cosa sicura, che sappiamo, che è quello che voglio dirvi, è che dopo questi tre mesi, torna nuovamente a compiere i crimini. Sempre a sacramento. Nel 1978 commette reati anche nelle conte vicine. E il suo modo superandi sembra cambiare di volta in volta. E purtroppo questo, chiaramente, rallenta le indagini, perché fa credere ai poliziotti che ci sia più di una persona dietro a questi stupri, a questi omicidi. E ricordiamocelo, fa tutto senza far sospettare minimamente né sua moglie né le sue figlie. Sembra proprio godere di questa cosa. Cioè, lui vuole avere le attenzioni, però, sapendo che l'agente non sa che è lui il colpevole. A lui piaceva tantissimo che si parlasse dei suoi crimini. Tanto che, che cosa fa? In questo momento, Joseph continua a chiamare diverse stazioni di polizia e continua con queste telefonate anonime, in cui li prende in giro e anche conferma dei crimini che effettivamente o aveva in mente di realizzare o stava realizzando. Gli agenti quindi provano in tutti i modi a fermarlo, ma falliscono sempre. Anzi no, solo una volta riescono a impedirgli di fare qualcosa. Diciamo che ottengono una piccola, piccolissima vittoria. Quel giorno, l'East Area Rapist aveva annunciato di colpire in una zona chiamata Watt Avenue. Verso le due di notte, quindi, i poliziotti vedono un uomo mascherato e quindi lo fermano. Ed era Joseph. Era Joseph che stava per commettere un crimine. Provano a catturarlo, Ma lui riesce a scappare e sparisce nel nulla. Cioè, l'hanno capito, non hanno visto che era Joseph chiaramente, l'hanno fermato, hanno capito che era lui, ma non sono riusciti a catturarlo, ad arrestarlo. È scappato. È assurda sta cosa ragazzi, è veramente assurda. Quindi, dopo tutto ciò, lui comunque ha continuato a stalkerare le vittime anche al telefono, ha continuato anche a telefonare la polizia, cioè proprio se la rideva. Ormai più passa il tempo e più l'uomo vuole attenzione, ne vuole sempre di più e quindi fa tutte queste cose, ma arriva anche ad inviare una lettera che trovate su Wikipedia. È molto lunga, non ve la dirò. Cerca comunque in tutti i modi di appunto attirare l'attenzione su di lui sempre di più. È come un giochino per lui. Vediamo se mi beccate. Perché tanto sapeva che non lo beccavano, perché, non lo so, o era troppo bravo lui, o in quegli agenti non erano proprio svegliissimi, non lo so, credo fosse molto bravo lui. Comunque, anche per via di questa ricerca continua di attenzioni, il 2 febbraio 1978 fa una cosa decisamente terribile. Quel giorno una coppia sta portando a spasso il cane, tra l'altro in una zona in cui Joseph aveva già colpito in passato. Questa coppia vede effettivamente l'uomo e in qualche modo si scontra con lui. E questo scontro, che non sono riuscito a trovare bene le dinamiche, comunque questo scontro finisce con Joseph, che toglie fuori la sua pistola, e la coppia morta poco dopo. Tuttavia, come al solito, anche questo duplice omicidio non porta a nessun ritrovamento del colpevole. Ormai quella zona è diventata davvero una zona di terrore, le persone sono spaventatissime, è come se ci fosse qualcuno in agguato, sempre pronto a colpire sia dentro casa che fuori di casa ormai. E la cosa più spaventosa di tutte è che sembra non esserci una fine, perché la polizia non riesce a trovarlo. Il 9 settembre del 78, Joseph entra in un'altra casa, sempre alle 2 di notte. Questa volta si trova nella città di Danville, in California. Comunque in questa casa lui fa i suoi soliti furti, fa le sue cose, se ne va via, e passa un po' di tempo. Tuttavia la polizia viene chiamata e arriva in quella zona e trova un veicolo sospetto, al cui interno trovano 3 pagine, 3 foglie di carta. I primi 2 foglie di carta sono già molto inquietanti di per sé, ma il terzo, che incuriosisce molto gli investigatori. Su un lato del foglio c'è scritta la parola PUNIZIONE, e nel lato opposto è disegnata una mappa del quartiere. Però gli agenti non riescono a capire che cosa significhi, non riescono a capire quale sarà il prossimo bersaglio, non riescono in nessun modo ad arrivare a Joseph. Anche perché l'East Area Rapist era ovvio stesse giocando con loro, ma perché stava facendo tutto questo? Gli agenti pensano che fosse soltanto un tentativo di depistaggio, un qualcosa che il colpevole stava facendo apposta per mandargli fuori strada. Eppure non sembra, perché ci sono dei significati nascosti che non riescono a decifrare. E da quella scoperta, Joseph continua comunque a compiere i suoi crimini in maniera completamente tranquilla, serena e indisturbata. Per altre sette volte. Nonostante questo, devo dirvi che il 5 luglio del 1979 rischia di far scoprire a tutti la sua seconda vita. Quel giorno, infatti, fa uno dei suoi tanti furti. Ma non lo fa in una casa. A quanto pare questa volta lo fa in un negozio. E addirittura viene arrestato. Viene accusato di taccheggio e condannato a soli 6 mesi di libertà vigilata. Ma purtroppo viene anche liberato da questo obbligo nell'ottobre del 79. E sinceramente io sono abbastanza sconcertato perché come cavolo è possibile che non abbiano approfondito il passato di quest'uomo mentre era in libertà vigilata, mentre l'hanno arrestato. Cioè, ce l'avevano, l'avevano preso. È assurdo che non siano riusciti ad arrivare. Cioè, capisco che magari sarebbe stato difficile collegare un semplice furto in un negozio a tutto il casino che aveva fatto l'Easterio Rapist, per carità. Però ce l'avevano. E sta cosa sinceramente mi fa abbastanza arrabbiare perché ultimamente in molti casi stiamo parlando di criminali che vengono beccati per altri furti minori, passano un cavolo niente praticamente in carcere o ai domiciliari e vengono rilasciati così. Sta cosa fa abbastanza incazzare. Ma vabbè. Nonostante tutto, quindi, Joseph torna libero e questa storia della libertà vigilata è solo una piccola parentesi della sua vita. Piccolissima, come vedete, ha passato tutta la vita libero praticamente. E la cosa che è ancora più assurda è che dopo questo periodo qui comincia a perseguitare il capo della polizia. Non gli fa le stesse cose che ha fatto alle altre vittime, ma comunque gli rompe parecchio le scatole. E l'ha fatto senza nascondersi, cioè il capo della polizia sapeva che era Joseph a rompergli le scatole e a stalkerarlo, eccetera. Quindi, come è possibile ridaglie che non siano arrivati a lui? Vabbè, a questo punto Joseph perde il lavoro per cui si trasferisce con la sua famiglia altrove, però sempre in California, al sud. E quindi, anche lì, continua con i suoi crimini e con i suoi omicidi. Ora Joseph colpisce le zone di Santa Barbara, Ventura e la zona di Orange County. Potete immaginare il terrore che provoca quest'uomo ovunque vada. Per cui i media adesso cominciano a chiamarlo The Night Stalker. Come, secondo me, sapete, Night Stalker in realtà è il soprannome che era stato dato a Richard Ramirez. Infatti, dopo il caso di Richard Ramirez hanno cambiato il soprannome di Joseph non più in Night Stalker ma l'original Night Stalker. Perché prima c'è stato lui. Comunque, da quando si trasferisce a sud della California non solo, come al solito, deruba e stupra ma uccide anche molto più spesso delle altre volte. Quindi più passa il tempo più lui diventa violento, più lui ha voglia di sangue e più gode della sofferenza altrui. Le sue nuove due prime vittime sopravvivono agli attacchi ma le altre che seguono non saranno così fortunate. Adesso Joseph è semplicemente un mostro incontrollabile però, per fortuna, a tutto c'è una fine e ci stiamo finalmente arrivando molto lentamente. Cosa succede quindi? Joseph un giorno è in una casa sconosciuta che appartiene ad un'ennesima coppia. Quindi come da rito lui li lega, va in giro per le stanze, ruba un po' qua e là. La donna però, la vittima, fa una cosa che Joseph non si aspettava. Ovvero si mette ad urlare, riesce addirittura un po' a liberarsi e urla talmente forte che attira un vicino di casa. Per cui Joseph capisce di essere in pericolo che potrebbe essere scoperto. Così esce e scappa via con una bicicletta. Quindi li risparmia. Il vicino di questa coppia di prime vittime era un agente dell'FBI. Quindi quella sera quest'uomo esce da casa sua, vede l'original Night Stalker Joseph e lo insegue. Joseph però ad un certo punto abbandona la bici, si mette a correre più veloce che può e anche questa volta riesce a scappare. Tuttavia la notizia passa ai media però Joseph intanto continua a compiere delitti e ad uccidere coppie. Durante uno di questi crimini però è presente una particolarità. Una corda usata per legare una delle vittime, un modello molto particolare che gli investigatori riconoscono. Ovvero lo stesso modello usato dall'East Area Rapist. L'altra identità data a Joseph. Capiscono quindi che stanno cercando la stessa persona, lo stesso colpevole di questi crimini ma fino ad allora non se ne erano neanche mai immaginata questa cosa. Quindi finalmente viene fatto questo collegamento che però non è abbastanza cioè non porta a molto. Joseph viene a sapere questa cosa il fatto che la polizia aveva collegato le due figure e aveva pensato fossero la stessa persona. Quindi da quel momento in poi nei suoi prossimi crimini nei suoi prossimi omicidi una volta commessi i delitti semplicemente ha iniziato a portarsi via tutte le corde utilizzate. E arriviamo quindi all'ultimo dei suoi crimini che oddio è molto diverso a quelli che aveva appena commesso subito prima dell'ultimo ma al tempo stesso simile ai suoi primi. È il 4 maggio del 1986 Joseph irrompe in una casa e al suo interno trova un adolescente tutta sola. Questa ragazza è sola in casa perché i suoi sono via per le vacanze e a quanto pare lei non è andata con loro è stata lì. E Joseph però vedendola decide di picchiare la morte e poi la violenta. E dopo questo crimine veramente ferato e molto violento direi uno dei più violenti Joseph inspiegabilmente si ferma del tutto. Sono stati segnalati poi degli attacchi sporadici nel 2001 ma non è niente di confermato in teoria. Una fonte dice che è a questo punto della sua vita che diventa meccanico che si ritrova in pensione nel 2017 ma del resto non sappiamo altro di Joseph. Non sappiamo cosa ha fatto dall'86 in poi ma sembra che non abbia più commesso crimini come in passato cioè si è fermato e per un sacco di tempo nessuno l'ha beccato quindi come ha fatto alla fine questo caso a risolversi? Cos'è successo? Cosa l'ha incastrato dopo tanti anni? Alla fine lui l'aveva fatta franca aveva fatto centinaia di crimini per cui poteva essere arrestato tra cui tutti i vari furti le violenze eccetera aveva ucciso tante persone e l'aveva fatta franca a un certo punto ha semplicemente smesso e per la cronaca si tratta di almeno 13 persone uccise da Joseph quelle accertate quindi capite che fa decisamente incazzare il fatto che non sia mai stato preso non fino a di recente devo spiegarvi che cosa è successo per troppi anni i detektivi di tutti questi posti in cui ha operato Joseph hanno indagato separatamente perché sono sempre stati convinti di cercare persone diverse quindi è anche per questo che ha avuto vari nomignoli durante il corso del tempo c'è stato qualcuno che ha pensato ad un collegamento anche grazie appunto alla corda che vi dicevo che hanno ritrovato e per via degli ultimi delitti ma i vari capi di partimento di pulizia si sono confrontati di tanto in tanto e hanno spesso concordato sul fatto che fossero persone diverse a commettere i crimini specialmente direi per via del modus operandi leggermente diverso di volta in volta perché non era stupido lui lo sapeva che li avrebbe depistati molto facilmente comunque nel 2001 viene effettivamente confermato che il DNA di East Area Rapist e di Original Night Stalker erano identici non è chiaro da dove provenisse questo DNA anche perché Joseph è sempre stato bravissimo a nascondere tutte le sue tracce si vede che qualcuna gli è sfuggita in questi mille crimini in giro per la California per fortuna comunque il DNA non mente almeno due dei soprannomi che gli vengono dati vengono collegati e creano un nuovo soprannome da quest'unione dei due suoi alias ora lo chiamano Yerons E-A-Rons che sarebbe praticamente l'acronimo di East Area Rapist Original Night Stalker tutto insieme fanno un passo avanti come avete visto ma il caso nel 2001 rimane comunque freddo in questi anni di vuoto la scrittrice di gialli Michelle McNamara ossessionata da questo caso coni è il nome ufficiale del killer nel suo libro cioè quello che tutti noi conosciamo oggi ovvero il Golden State Killer e ce n'era bisogno dopo tutti questi nomi? in realtà si perché adesso si capisce che finalmente c'è un uomo solo dietro a tutto questo perché lei collega in questo libro grazie a questa scrittrice e al suo libro che è diventato un bestseller questa storia viene anche riportata in auge e collega tutti i crimini tra virgolette cioè era da troppo tempo che comunque non se ne parlava perché erano passati ormai vent'anni e il suo libro ha riacceso un dibattito su tutti gli states ma adesso nel nuovo millennio chiaramente ci sono molte più tecnologie ci sono anche appunto tecnologie per fare analisi del DNA e a tal proposito in questo periodo esce fuori anche un'altra persona uno dei fratelli delle tante vittime di Joseph quest'uomo è molto ricco e finanzia per 2 milioni di dollari la ricerca genetica su questo caso inutile che vi dica che quando i progetti scientifici di questo tipo vengono finanziati c'è sempre da festeggiare perché grazie al suo contributo vengono setacciati i database dei DNA di tutta la California rendendo in generale il database californiano il terzo più grande al mondo quindi a quel punto arrivati a questo grado di tecnologia è solo una questione di tempo prima di risolvere tanti casi rimasti freddi per anni infatti negli ultimi anni se avete notato tantissimi casi vecchi stanno venendo risolti quindi arriviamo al 15 giugno del 2016 l'altro giorno praticamente l'FBI rilascia quindi nuovi dettagli sulle indagini tra cui alcuni nuovi schizzi in più oltre a tutto ciò una ricompensa di 50 mila dollari per chiunque avesse informazioni e aiutasse a trovare il colpevole di tutti questi crimini chiaramente sono tutti carichi vogliono tutti trovarlo a tutti i costi e finalmente nel gennaio 2018 c'è una vera svolta seria enorme tramite un sistema di ricerca genetica piuttosto complesso cercano di risalire a un parente quanto più vicino possibile alle tracce di DNA trovate in diversi oggetti delle scene del crimine effettivamente trovano un parente lontano di Joseph troppo lontano però perché era un uomo del 1800 non so come cavolo abbiano fatto a trovare questo parente lontanissimo comunque collegato alla famiglia di Joseph grazie a 25 alberi genealogici diversi non 25 persone 25 alberi genealogici quindi un parente molto lontano parliamo di migliaia migliaia di persone che in qualche modo sono collegate tra loro da un legame di sangue ma almeno è un inizio quindi trovano questa persona collegata a lui alla lontana tuttavia ci vuole tanto altro lavoro prima di raggiungere Joseph però come vi ho detto è solo questione di tempo perché mettendo insieme tutti i pezzi dalle indagini passate tra cui anche età sesso luogo possibile di residenza altre specifiche eccetera e lavorando giorno dopo giorno alla fine il campo dei sospettati e dei possibili colpevoli si restringe parecchio da 25 alberi genealogici arrivano a considerarne ben 6 potenziali sospetti che è un passo enorme questo però è il momento più difficile perché devono stare molto attenti a selezionare quelli giusti in base ai dati che hanno a disposizione così da 6 passano a 2 e da 2 a uno solo e poi a un solo uomo della famiglia De Angelo Joseph James De Angelo Jr deve essere stato emozionante per i nuovi detective arrivare a questo risultato finalmente dopo così tanti anni sono arrivati alla verità avranno sicuramente stappato qualche spumante o qualcosa del genere perché finalmente si è arrivati a un volto quindi la sera del 24 aprile 2018 i delegati dello sceriffo della contea di sacramento arrestano Joseph Delano nel cortile della sua casa di sacramento in quel momento scoprono che è un povero vecchietto divorziato e in pensione alcuni addirittura quando lo vedono pensano di essersi sbagliati perché ha un aspetto troppo innocente per essere il mostro che dovrebbe essere ma le prove ci sono ragazzi cioè è lui sicuro al 100% anche perché vengono fatte altre analisi col suo DNA con lui davanti eccetera ed è quello è lui il DNA non mente mentre l'apparenza sì e infatti lui non è per niente il vecchietto troppo debole per fare queste cose magari in quel momento specifico sì però in passato aveva fatto tutto ciò che vi ho raccontato quindi l'uomo a questo punto viene ovviamente interrogato e lui si dimostra molto cooperativo in sostanza ammette tutto quindi il 29 giugno 2020 Joseph si dichiara colpevole di molteplici capi di imputazione per omicidio e stupro nell'ambito di un patteggiamento che gli ha risparmiato la pena di morte ammette anche numerosi crimini di cui non era stato mai formalmente accusato compresi tantissimi stupri più di quelli della lista che vi ho fatto vedere prima e vabbè alla fine il 21 agosto 2020 viene condannato all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale a quanto pare è ancora vivo ed è ancora in carcere e finalmente questo caso è giunto a un termine quindi sinceramente io ragazzi arrivato a questo punto non so veramente che cosa dire perché sono stra contento chiaramente che sia stato arrestato però ha passato veramente tutta la sua vita libero ha fatto tutte queste cose orribili ha ucciso tante persone e ha fatto del male ad altrettante anzi molte di più di quante ne ha uccise ha fatto comunque del male psicologico e fisico a tantissime persone e io non posso non incazzarmi cioè non posso non incazzarmi del fatto che è stato libero per tutto sto tempo solo nel 2018 è stato beccato è assurdo ed è stato beccato sostanzialmente grazie all'analisi del DNA quindi è veramente un ramo molto importante per le indagini tra l'altro un video non è collegato a questo però comunque in cui parliamo molto di DNA è il test di Lynn che ho fatto in passato ve lo lascio qui da qualche parte che mi ha fatto proprio capire quanto il DNA possa in realtà aiutare e salvare delle persone anche se poi poverina Lynn ha avuto una storia veramente assurda bruttissima bruttissima penso la donna più sfortunata del mondo comunque in quella storia lì parliamo molto meglio del test del DNA in ogni caso sono contento finalmente in prigione ma allo stesso tempo non riesco a non incazzarmi penso che anche voi provate le stesse mie cose in ogni caso fatemi sapere tutte le vostre opinioni fatemi sapere tutto quanto qui sotto intanto hai pochissimi che rimangono fino a qui anticipo che molto presto vi porterò con me in dei posti molto belli o meglio porterò la videocamera con me in un posto seduto sarò sempre seduto qua a raccontarvi cose perché non faccio i vlog però sarò in posti diversi vi racconterò anche delle esperienze che farò in quei posti non vedo l'ora non vedo l'ora e voi verrete con me in questo senso sono stragasato quindi spero che rimarrete nei paraggi per cui se vi ho incuriositi ricordate di massacrare il pulsante iscriviti e adesso parlo con te sì proprio con te se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare ti consiglio questa storia da brividi oppure questa playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo vi ricordo infine di seguirmi anche su instagram se volete farvi i cazzi miei e niente vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file ciao ciao